L'epidemia alle zanne affilate. Ora sembra sopita, i numeri dicono che è in calo, ma mai sottovalutarla, basta poco e può tornare a mordere. Luca Zaia conferma che il Veneto ha numeri da fascia gialla, R con T a 0,86, ma guai a abbassare la guardia. Spero non si abbassi la guardia. Onestamente qualche assembramento da sprezzo lo si vede in giro. Qualche immagine, adesso vedremo, saremo la prova del 9 con questo fine settimana. Però ragazzi, signori, l'assembramento è sempre foriero poi di un portarsi in pancia del rischio. Quindi dico fate attenzione perché non abbiamo la certificazione matematica che non si possa riavere una recrudescenza, una ripresa della curva di infezione. Intanto il Veneto ha fatto il rifornimento di dosi e punta a raggiungere un giro di oltre 40.000 vaccinazioni al giorno. Un ritmo che consentirebbe di anticipare i tempi previsti per coprire le varie fasce d'età. Domani ragazzi, iniziamo con i target pesanti, 43.000. Guardate che 43.000 non ha mai visto scritto nessuno su un pezzo di carta, su una ragione da 4.900.000 abitanti. E si va avanti martellando perché ovviamente abbiamo dosi di vaccino adesso a disposizione. Per imprimere un'accelerata decisiva alla campagna di vaccinazione però è importante anche che le fasce d'età di turno non aspettino a prenotarsi. Per questo Luca Zaia lancia un appello agli over 60. Ovviamente noi adesso spingiamo forte, spingiamo forte perché siamo convinti del fatto che più veloci andiamo prima usciamo da sta tragedia. Quindi adesso faccio ancora appello a tutti coloro che hanno più di 60 anni, in particolar modo la classe, la corte come si direbbe, la popolazione è di 60-69, ma vale anche per il 70-79 e chi ha anche più di 80 anni. Quindi sopra i 60 anni sappiate che noi siamo con ancora posti nelle agende. In questo momento abbiamo 64.000 posti liberi. Grazie a tutti.